Buonasera, come tu dici, è stato un partito complicato, ci sono due versioni, nel primo tempo non abbiamo terminato di stare bene, non abbiamo stato comodo, non ha faltato un po' di agresività, di intensità, di personalità e per questo ci siamo andati perdendo, credo che nel descanso abbiamo corregito cose, abbiamo salito alla seconda parte con altra attitud, il squadro ha iniziato a giocare meglio e credo che abbiamo empattato, nel secondo tempo abbiamo andato a per il partito a fare una pressione alta, abbiamo avuto occasioni e quando credo che siamo meglio, abbiamo ricevuto il secondo gol a balone parado. Siete stati molto diversi, soprattutto nel primo tempo ma anche nel secondo, rispetto alle prestazioni che avete avuto nelle altre partite precedenti, ma che cosa vi è successo? A ver, tutti i partiti sono diversi, ogni partito ha una difficoltà e noi prepariamo ogni partito per giocare e per tentare fare lo miglior possibile. a partire da lì solo pensavamo in questo partito, già non abbiamo olvidato dell'anteriore evidentemente, lo che l'ha acabo di dire del tuo compagno, la differenza è stata in questo, in che la prima parte credo che ci ha faltato molto, poi nella seconda si ha visto altra attitud, però non è stato sufficiente. a partire da un'altra partita. possiamo passare al mister? Ci sono altre partite? Sì. Hai giocato a sinistra oggi sulla schierta, come ti sei trovato? Eh... Bueno, bene, a ver, al final per mi è una posizione nuova, però bene, al final per mi lo importante è aiutar al equivo dove sia necessario, sia sia in la schierta, in la direzza, in il centro o dove diga il mister. Io, a tutti gli giocatori in generale, lo che ci piace è giocare e partecipare e dove mi hagi che giocare mi adaptare e evidentemente intenzare dare lo miglior possibile. a tutti gli giocatori in generale